Seconda brevissima domanda invece sulla questione delle mascherine. Secondo lei Arcuri in qualche modo è venuto meno a uno dei suoi compiti principali e quindi deve fare un passo indietro oppure no? Grazie. Per quanto riguarda Arcuri, io prima di valutare il suo operato la inviterei a porsi nelle sue condizioni, a ripercorrere, quindi al suo punto di vista, il lavoro che ha dovuto fare dall'inizio, quando in tutto il mondo si è scatenato una pandemia e io vi posso assicurare, ricordate che i primi giorni ero anch'io alla protezione civile per rendermi conto di persona, di come stavano le cose. Era pressoché impossibile trovare in giro per il mondo un ventilatore. Era pressoché impossibile procacciarsi una partita di mascherine. Quello che ha fatto Arcuri, i numeri parlano chiaro e sono numeri trasparenti. Sono pubblicati sul sito della protezione. Se lei ritiene di poter far meglio, la terrò presente, spero che non possa succedere. Però, scherzi a parte, è stato un impegno faticoso. Non sottovaluterei assolutamente la qualità del suo operato.